Ciao. Io sono Giulia. La nuova assistente virtuale di Bar Facebook. Vi ricordo che. Essendo la pagina aperta a tutti. Potete anche voi inserire ciò che vi piace, inoltre vi ricordo. Di invitare i vostri amici a registrarsi. Grazie. Ciao. Io sono Giulia. La nuova assistente virtuale di Bar Facebook. Vi ricordo che. Essendo la pagina aperta a tutti. Potete anche voi inserire ciò che vi piace, inoltre vi ricordo. Di invitare i vostri amici a registrarsi. Grazie. Ciao. Io sono Giulia. La nuova assistente virtuale di Bar Facebook. Vi ricordo che. Essendo la pagina aperta a tutti. Potete anche voi inserire ciò che vi piace, inoltre vi ricordo. Di invitare i vostri amici a registrarsi. Grazie. Ciao. Io sono Giulia. La nuova assistente virtuale di Bar Facebook. Vi ricordo che. Essendo la pagina aperta a tutti. Potete anche voi inserire ciò che vi piace. Inoltre vi ricordo. Di invitare i vostri amici a registrarsi. Grazie. Grazie.